Fulio Colini, un commento di questa partita che vede uscire la Luparense sconfitta soltanto ai calci di rigore? Anche loro sarebbero riusciti sconfitti solo ai calci di rigore, se avessimo detto noi. No, è una partita secondo me equilibrata, noi abbiamo provato a vincere nel senso tempo, però non siamo riusciti ad andare sopra e poi nel finale le due squadre hanno giocato col portiere per mantenere un po' il possesso. Ripeto, è stato un match point e loro hanno giocato in 5, 5 e mezzo, quindi era l'occasione buona, vediamo se riusciremo a ricaricare bene le batterie per mercoledì. Cosa ci fa in questo giorno e mezzo che ci separa dalla partita? Bisogna inculcare anche forse dei concetti ai giocatori di dimenticare questa serata forse? Sì, bisogna recuperare le energie fisiche e aumentare il recupero delle energie fisiche con la testa. Ci starà meglio di testa, avrà un vantaggio insomma mercoledì. Mercoledì un altro clima infervorato in questo palazzetto che tu conosci bene, cosa ti aspetti? Quello di oggi, peggio pure, perché non ci saranno penso neanche i nostri tifosi venuti in numerosi, quindi sarà una serata calda sia come temperatura atmosferica sia come disastri per noi qua.